Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction e questa settimana come vi ho detto nel video di ieri dedicato ai migliori trailer della settimana abbiamo una marea di roba perché ieri abbiamo visto i trailer generali di Disney, Apple TV, Prime Video, una marea di roba. Oggi invece vi porto tutto il video dedicato a Netflix, sono 40 e passa minuti dedicati a solo i trailer di Netflix che sono stati mostrati durante la settimana dedicata a Netflix con i vari annunci di film, serie tv e anche videogiochi, purtroppo per quanto riguarda i trailer dei videogiochi non sono riuscito a metterveli in questo video perché Netflix mi blocca il video, non mi permette di farvelo vedere sfortunatamente, quindi a fine video ci sarà poi un montaggino veloce che ha fatto Netflix stesso in cui vedete i vari videogiochi, anche se in verità ad esempio quello del gioco degli scacchi, della regione degli scacchi scusate l'avamo guardato proprio nel dettaglio, ne avevamo parlato ma purtroppo non riesco a mettere più quel pezzo all'interno di questo video, vi ricordo che tutto ciò l'abbiamo visto in streaming su Twitch negli precedenti giorni, sono riuscito a mettervi bene o male tutti i trailer, ho levato qualcosina che era veramente puzzolentina, a parte ciò vi auguro una buona visione. Allora, mo 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 ragazzi, tocca guardarsi tuuuutti questi trailer di Netflix, tutti questi trailer di Netflix dal Netflix G2, trailer e clipette uscite in questa settimana, una miriade di roba, una miriade di roba. Iniziamo da questo qui che penso sia un film, una serie di Giguilermo del Toro, film serie, è una serie antologica, questa è un'antologia di storie ok, vediamo un po'. Dalla mente di Giguilermo del Toro. Esperienza, eh, cioè, provano i mondi, esplorano i mondi diciamo, e qualcosa non mi ricordo, non ho letto. Raccontato dai registi di Mandy, The Empty Man, Splice. Abba Duke. Quindi sono tutte, tutte storie horror. Twilight, Hannibal. Una... Rupert Grint! L'armadio delle curiosità. In arrivo nel 2021 su Netflix. Ok. Ok. Figo, figo, figo. Prossimo, The Midnight Club. Questo è un teaser ufficiale. Il nome, in verità, già me lo ricordo, però non l'abbiamo visto perché questo qua è il teaser, quindi... Uh, dei produttori di Laos e Bly Menor, ma aspettate, quindi questo qua è sempre... Non è la stessa saga, è un altro, io però amo Bly Menore. E i Laos. Questo è un altro horror, questo. Scene. Or unseen. Here. Ok. But not here. Scene, unseen. Here, but not here. Ok. Lab della mezzanotte. In arrivo... 7 ottobre. Tiè. Resident Evil. Sempre. Tutti horror ormai. Netflix ormai è la piattaforma horror. Resident Evil la serie. Trailer ufficiale. Vediamo un po' com'è. Dicevano che il mondo sarebbe finito nel 2036. E invece... A questo l'avevamo già visto, però era un po' diverso, forse. Il mondo ormai è già finito da molto tempo. Oh. Umbrella. Un'azienda tormentata dagli scandali che ora sta cercando di reinventarsi. Aha, certo. La vecchia Umbrella ha commesso errori, ma ciò su cui stiamo lavorando oggi cambierà il mondo intero. Eh. Come no. Si già è un po' bruttina. Abbiamo un problema. Il farmaco contiene un derivato del virus T. Il virus T genera i mostri. Ok. Miliardi di persone moriranno. Tenete tutti la bocca chiusa. La CGI è sempre un po' stranina, eh. Fa' un culo. Mi ricordo che pure que... Non ho volete resistenza. Ti dirò che però lo voglio vedere. Sono curioso. Il matrimonio è complicato. Resident Evil, la serie. Dal 14 luglio. Dopodomani, praticamente. Ok. Va bene. Va bene. Invece, Famiglia Adams. È impossibile uscire dalla sezione horror, ragazzi. Non c'è possibilità. Ormai, aprite Netflix. È horror simulator streaming platform. Impossibile. Arriva mercoledì. Nella Famiglia Adams. Pam, 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 pam. Spero che ci mettono la musichetta originale, però. Netflix è triste di presentare... Buba. Oh. Una nuova inquietante serie. Dalla mente di Tim Burton. Mercoledì. Ah. Ciserino breve e conceso. Prossimamente. Ok. Beh, immagino che ci sia anche parte del resto della famiglia. Ipotizzo. The Imperfects. Official teaser. Questo potrà mai essere un horror, ragazzi? Beh. Beh. Vi dirò che la possibilità c'è. Eh. Do you remember Dr. Sarkov? No. Chi è? Ok. You. Me. Silda. We all had. Adverse reactions. Quest'anno. mutanti siate pronti per l'arrivo di una storia tirata e incazzata wow gli imperfetti ok una serie non horror ma con dei mostriciattolini prossimo oh si da un mostriciattolino all'altro allora questa bellissima questo però non penso che sia probabilmente un trailer ma io vi consiglio tantissimo questa serie ragazzi questa qua è dolcissima come serie questa è una storia una storia di un gruppo molto speciale di persone che si trovano a fine di filmare la seconda di season 2 di Sweet Tooth questo è un wrap quella era Robert Downey Jr è un wrap di season 2 di Sweet Tooth è stato un largo percorso e ha fatto un lavoro molto difficile ma è stato un divertente e non ho avuto a condividere con te cosa succede in season 2 le stagioni sono più alti le battaglie sono più grandi i ragazzi sono più piccoli l'inforzamento sarà un'avventura ma questo non è l'inizio della storia e non posso aspettare per vedere cosa succede quindi stanno dicendo che ci sarà anche la terza season praticamente per chi non la conoscesse questa questa serie parla di un mondo in cui dei bambini sono cominciati a mutare nascevano dei mutanti e nascevano con delle abilità tra virgolette delle parti di corpo provenienti dagli animali tipo lui che è il protagonista principale ha tipo le orecchie da cervo e anche le corna poi c'è la ragazza con il naso da maialino e altre cose è tutto molto molto carino come cosa e poi first look alla seconda stagione delle Winx seconda stagione delle Winx sono già pronto sono tutto Winx la tua mano nella mia a lei chi è? Bloom? ah no lei è Flora quindi è una clip non è un trailer chiunque sei io arrivo molto molto lentamente fiorellini? è una cosa che sta facendo lei o non se ne sta rendendo conto? chi è? scusatemi ma lei chi era se questa è Flora? Flora che incontra Flora? Flora nel cartone era una buba allucinante si ah lei si chiamava Terra? ah si chiamava Terra ah è vero beh Flora è 100x ma è come il fatto chi è che hanno levato dalle Winx? Musa? no hanno levato Tecna hanno levato Tecna e Musa non ascolta la musica ma ascolta le emozioni umane per non ascoltare vabbè 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 prossimo trailerino vediamo un pochettino Warrior Nun season 2 mai sentita questa serie mi sono coperso completamente la stagione 1 vediamo che cos'è è un horror wow certo dici poteri cammina sull'acqua cammina sull'acqua preti diavoli e quello è il papa? ah perché non è la la non è la suora guerriera giusto? significa questo giusto? la suora guerriera da dove questo inverno? ok 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 questo sono molto curioso questo sono molto curioso primo first look di One Piece di One Piece di One Piece ora E se puoi vedere siamo in Sudafrica, portando One Piece per la vita Voglio vedere una piccola di qualche delle nostre sete E' stato un fan di One Piece molto comando E' stato un'ottima scelta che i miei 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 mangiati diventano una realtà Ok, c'è una parola di parlare! ROLLE A L'ACLE! ROLLE IT! Oda's world is so unique Seguire tutto questo in personale, poter spettare e toccare Ha proprio stato un'esperienza Questo è un'esperienza Quindi fanno vedere solo le navi, non fanno vedere altro purtroppo Io amo tutti i navi, ma Brattier è massivo, è iconico, è sorrattato da docksi con una barra dentro del fishmouth, che sarà il punto preferito Zoro in quei episodi All'inizio sono molto felice di poter comprare questo mondo con i vecchi e i vecchi, abbiamo bisogno di andare a lavoro ogni giorno e camminare su questi massimi sette e vedere Sì, come fosse un'attrazione e un privilegio, e non possiamo aspettare di farlo con te Quindi non fanno vedere nulla di One Piece, però, ero curioso di vedere qualcosa Chioggia la One Piece Netflix Beh, ma in teoria hanno finito le riprese, mi sembra, no? Se non sbaglio O forse magari no Vabbè, vabbè, vedremo quando uscirà Prossima serie, Troll, sarà una serie sui Troll Anche di roccia e pietra Quazza quanto sono grossi Wow Ok In arrivo presto È comunque una serie penso In Norvegia Va bene Prossima serie Anche questa mi sa che è norvegese Infatti stanno facendo un po' di serie in Norvegia 3, 2, 1, via Quindi è la storia di quel che è successo 6 giorni prima del matrimonio di uno di loro È stato un alieno ok ma è una delle cose più senza senso che abbiamo mai visto 28 giugno ok prossimo allora questa è una clip di Spiderhead il film con Chris Hemsworth e l'altro attore di cui non ricordo bene il nome che se non sbaglio sta in Top Gun molto curioso di questo film Miles Teller ah ho piacere cosa pensa lui di lei? cazadissima Che cos'è questa roba? Ah, era una roba chimica, vero? Che avevano dentro di sé E modificava Modificava le emozioni umane, se non sbaglio Ah, è la stessa Sì Si Pompare la verbola, riuscimo a parlare Oh, la mia bella Oh, la mia bella, è così Non mi racconta, racconta con noi Un po' inquietante però Cazzo mo' volevo sapere Era Io mi ricordo che c'era nel trailer Era un qualcosa che loro avevano dentro di sé Che gli permetteva di Vedete sono delle medicine che Altrano la mente Ovviamente è tutta chimica che modifica le percezioni del cervello E gli fa fare certe cose Fico Esce il 37 giugno quindi tra pochissimi giorni Poi prossimo sempre animato Farzar Farzar Sera animata in arrivo su Stavo dicendo Disney Plus Netflix Ok Ok This is Farzar It was a peaceful planet Before the evil aliens invaded But Renzo Protected his people From the aliens And their diabolical leader Barzar I'm stuck to the floor Help Then Renzo Married Queen Flemmy Totally for love Not just a gang power Even though she's a slightly older woman Oh yes come on Twerk them tits You know what mummy likes Wow Dad What I really want Is to be a general Sure I'll put a quote unquote team together for you It's my destiny to rid this planet of evil Who's the wise ass Put a manual transmission In this case You know I can't drive stick You fuckers You guys say you think for a joke Of course you're a goddamn joke I bought that general outfit from Party City You idiot And Ma da dove è uscito You pork this dork You better stay on your side of the vagina That won't be a problem Questa si Si E' il futura Madinette Si un po' Ma anche unito Unito a ricche e morti appunto E' lo stile poi di disegno è quello It opens up wormholes But only to my mother shower So It's broken No I am 15 luglio Ok Va bene Poi prossimo Sempre sera animata Inside part Inside job Parte 2 First look Tu 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 Ah Ah Lei è la fia del presidente Ma saranno delle merendine Eh infatti Hey regs So Are you You good I know it's your first day back Since your dad Took over and all Of course I'm okay It'll make you think That I'm not okay Oh god Well you did get a tramp stamp That says mommy like you drinky on it Whoa When did I get that Life is just dreams Turning to entropy You little shits Ha 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 She doesn't mean that children I do mean it Dreams die Santa is fake But student dad is real No Poverino You had to learn sometime Brayden Cognito incorporation Ah quindi Non è la fia del presidente Cioè Having him in charge Will literally destroy the world Yeah he's installed a lot of security cameras in the women's bathrooms Brad Ridley is a dick Shit talking detected This is nauseating me And for breakfast I had something called A Bud Light Limerita The refreshing Bud Light mist With the tropical lime twist Yeah 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 We have to do something Don't worry I mean Rand can't make things that different Listen up Pianz Cos'è l'imperatore Palpatina I've carefully reviewed this year's agenda from the robes And I don't give a shit Why are we taking orders for mysterious robed assholes anyway We don't even know who they are From now on We do what I say Cognito is going to reclaim its glory days Cognito is going to reclaim its ex-wife And its daughter And its original beautiful hairline Yeah Yeah This is going to be the most globally damaging midlife crisis since Elon Musk Hey Get to the war room you two Oh my god his kimono is open Oh I can't I can't see that Don't barf because then I'm in a bar I guess you're about to have to hold it Oh I'm bobbing You okay I said he got my inside job Questo penso che si dico la sigla Ti dirò Pare carina Questa qua è la seconda stagione Poi prossima Sempre da animazione Dragon Age Absolution Official teaser trailer Azz Vediamo un po' cosa hanno fatto Da Bioware Ma è un anime con del 3D? Sì Una serie animata Netflix E i nuovi eroi Ti sollevano Una nuova saga inizia We're in Vabbè Io non ho mai giocato di Dragon Age Quindi non so Dicembre 2022 Ok Poi Official teaser Della seconda stagione Del Caphead Show Dov'è qua? Italiano Che tra l'altro penso Non so se sia la seconda stagione Sono solo nuovi episodi Però è con lei Che arriva dal DLC Di Caphead Fellas I'm sorry I got you tossed in the Hooskow The Slammer The Crowbar Hotel The Stony Lonesome The Convict Condo The old Hooba Dooba Hooba Dooba I'm here for the stone Let's make it snappy Fat chance Wee Now let's scram And catch that picture show We're shovin' off La-di-da Who's the host with the most? You are your handsome devil Bite your tongue Or be sore Don't bite it for ye Well you can bite it Or I can bite it But either way It's gonna get bit Let me in at those Innocent friends Here are a couple Of hot tomatoes Mum's a word It's a secret Here goes nothing Gee What's he? Damn Still the beef? We're just a couple Of dum-dums Zippy ding dong She don't gotta know We're a couple of dum-dums Ah nuts That was well Neat Ah banana royal What in tarnation Dynamite Beat it Jesus boys It's the cops Hello Hello Fellas Toodaloo Ok E questi escono Il Sono usciti Usciranno Subbio Castlevania ragazzi Annuncio Della serie Anime Su Castlevania Vediamo un po' Com'è Don't listen to her I have no choice There's always a choice Sorry He knows you killed vampires But I prefer I'm so sorry So part of you has died We're looking for someone called Belmont Ahahahah 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 Ok Su Netflix Va bene Poi Prossimo qua Trailer Ah Qua sembra I trailer italiani Kakegurui Twin Trailer ufficiale Anime Soldi Una gattina Una gattina Una serie Netflix Pappa Studios Sono Ah Prossimo qua Prossimo qua Prossimo qua Prossimo qua oma e va a testa nio nuca città città nè to il varie città vattaccia un ue nita chau chanera i appari per i chan qui no te o sassi no vettacare io so da ne o kakik dass dottia non mi capta è fatta e di no a l'histo già giusti ai ya Quindi è una scuola e giocano Una scuola ludopatica Non sfidarsi di nessuna dubita di tutti Ok Va bene, va bene Lock and Key, stagione 3, teaser trailer Io non ho visto nemmeno la 2, nemmeno ho finito la 1 Però era molto siga quel che avevo visto Lo sfuggi, lo hai e vedi alla fine arriva comunque Thanos Piaggio nel tempo? Perché noi siamo legati a questa storia da anni Chi diavolo siete? Il vostro capitano E qualcosa di più Questa è casa nostra, le chiavi ci appartengono Questa era figa mi ricordo La stagione finale Ah Allora vi dirò che sono felice Perché mi piace quando annunciano la stagione finale Basta che non siano come altre stagioni finali Che poi in verità non finiscono Dal 10 agosto o dal 20 agosto? Penso che sia dal 10 agosto Oppure dal 10 Ci sta una parte Il 20 agosto ce ne sta un'altra Eh Oh 1899 Teaser ufficiale Vediamo che cos'è Ciao Mora La cosa? Dai dai creatori di Dark questa È tedesca Tutti bevono insieme E' creatori di Dark Ok La gente sono oblivious to reality Non vedono cosa vogliono vedere E tutto ciò che hanno fatto È cambiare la sua perspectiva Per dire il full scope di cose Oh Prossimamente Mi dirò È un teaserino Non è che si capisca molto Però Fico Fico Sandman Data d'uscita Questo mi avete detto Guardalo bellissimo Di qua Di là Vediamo Io sono il re dei sogni Oh si Fammi sognare Sovrano del regno degli incubi Cosa ci fai qui Hattie? Sta arrivando Chi? Chi? Orfeo Non è romante Sai l'uomo della sabbia? È solo una fiaba Hattie Eh no Non è una fiaba È tornato Buono sapersi Senta Hattie in mano Aprila Ora Sabbia Quest'anno Perdonatemi Sire Il palazzo Bello Non sono come voi Li avete lasciati Senza di lei Il regno È iniziato a decadere E sgretolarsi I sogni e gli incubi Non sembrano più Riconoscere il loro signore Glielo rammenterò io È libero È uscito Dalla sua Gabby Piange sangue È un giga Shad lui Sì sì 5 agosto Oh Fico Poi Il mostro dei mari Allora questo Mi ricordo che la prima volta che l'avamo visto Era clamorosamente bello Fatto dai creatori di Oceania E qualche altro film che non ricordo C'è stato un tempo In cui i mostri dei mari Devastavano le rive E nessuna nave Era al sicuro in mare Curioso il doppiaggio Ma quei giorni sono finiti Papapapam 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 Oggi valiosi guerrieri Combattono i mostri Ben oltre l'orizzonte Eh Oceania Vai Big Hero 6 Tu sei Giacob Holland Un'arma contro il progetto Più cupo della natura E io mi unirò Al tuo equipaggio Oh no Non credo Ehi Mettimi giù Lasciami andare Partiremo per uccidere un mostro La bambina sta dentro Ti sei nascosta? Io? Sì Mi piace lei Ti faremo scendere al porto più vicino Una nave da caccia non è roba da bambini Tu sei salito sulla nave alla mia età Stiamo in uno mesi E guardati adesso Non è la stessa cosa Ah non lo è? Eh no Non lo è Il Dragmore è pieno di mostri Mostri Che possono mangiarci Non possiamo tenerlo Ma è così carino Io e te Abbiamo un'idea diversa di carino Resta Uova Dove sei Qua Meglio avviarsi La mamma Io vedo un fuoco in lei Lo stesso fuoco che vi dinte I mostri li riesco a gestire Ma tutto secondo i piani Aspetta Jacob Lei invece Sarà la mia rovina Ho giurato che avrei fatto tutto il possibile Per tenere al sicuro le persone Puoi essere un eroe E avere torto Ah ma pare bello figo eh E noi glielo rimandiamo indietro Fuoco Mi piace Ho sempre voluto un animale Quello Non è un animale Ma gli ho già dato un nome Come si chiama? Come pensare? Blu Ah 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 Dall'otto luglio su Netflix Tra l'altro Scusate ma che cosa è questa animazione nuova e fighissima di Netflix Molto bello Molto bella l'animazione Spero che la mettono anche proprio nel Nell'app Eh figo A me piace Mi piace Mi piace Mi intriga Poi altro trailer L'accademia del bene E Del male Vediamo un po' Cosa? Cosa è Cenerentola? Biancaneve Ah l'accademia del bene e del male Dove nascono i buoni Dove nascono i cattivi Fico Ciao Con Charlize Theron Solo su Netflix In arrivo Mai Va bene Invece questo qua è il teaser ufficiale della serie tv Anime di Cyberpunk Sono molto curioso Sono molto curioso Pip 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 Trigger studios Basta che non è buggata anche la serie Esatto Come si è bello Stai esplodendo Cyberpunk Edgerunners In arrivo Settembre 2022 Ok, sono molto curioso E sempre di Cyberpunk abbiamo anche una clipetta di 54 secondi Che ci dà un'anteprima di come dovrebbe essere la serie A lui sarebbe il protagonista Ok Questo qua invece, no ancora non l'avevo visto È l'anteprima del volume 2 di Stranger Things 4 Sono 43 secondi in cui penso, boh, presentino Cioè, un teaserino È finita 11 Era la voce Tu mi hai liberato Il primo luglio A privà Il volume 2 Non puoi fermare questo adesso Che quella tabietta Stranger Things 4 Volume 2 Volume 2, il primo luglio Ok, va bene Poi Un altro anime Sempre di Netflix Uncle Zio Lo zio da un altro mondo Vediamo un po' E quindi si svegliò con la coscienza di un altro zio E quindi si svegliò con la coscienza di un altro zio Quindi è stato per 17 anni Buba? Ah, lei è un elfo O Sono molto Confuso e perplesso Però Boh sono Intrigato da questa cosa Va bene Official game preview Altri giochi Cazza di gara Alcuni con quelli che abbiamo visto Eccolo le strade degli scacchi Come si chiama quello di Hello Kitty Scusatemi Lo voglio Lo voglio Lo voglio Hello Kitty Happiness Parade Geniale Va bene E così finiscono i trailerini di Netflix Ciao 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 Ciao